allora vicini al natale stanno quasi concludendosi i primi ritiri dovrebbero essere ritiri conoscitivi dei nuovi team delle nuove realtà delle nuove acquisizioni ma insomma nell'ambiente di addetti lavori di giornalisti di appassionati c'è molto fermento per una stagione che ormai fra un mese riprenderà alla grande e stiamo parlando del grande ciclismo sull'altro mistero in terra d'australia allora ponendo una situazione così ipotetica di trovarci davanti al caminetto io il caminetto ci si invitano gli amici con cui parlare con cui dialogare e quindi è un collega ma un carissimo amico e ringrazio di essere stasera con noi ringrazio ciro scognamiglio giornalista ed editorialista della gazzetta dello sport Ciro ci sei? Sì buonasera Roberto e buonasera a tutti allora Ciro già in area festiva dove ti trovi a Milano o già a casa? No no sono a casa proprio da oggi Roberto sono a Torre del Greco queste feste sono l'occasione naturalmente per stare un po' in famiglia poi dal primo gennaio tornerò in redazione alla gazzetta dello sport perfetto Ciro e viene da dire qui in Toscana sta piovendo e insomma il clima è tipico di giorni che si stanno accorciando per arrivare al sostizio d'inverno poi però piano piano incominceranno ad allungare le giornate e piano piano ci avvicineremo veramente al grande ciclismo quello che ci appassiona e che ci entra dentro il cuore in attesa di arrivare in Italia in Toscana in particolar modo con i primi eventi World Tour marcati RCS sport però il ciclismo farà rotta in terra d'Australia allora magari così non per entrare in quelli che sono i risvolti tuoi professionali ma è previsto una trasferta in Australia oppure ci sarà comunque molta attenzione da parte del tuo quotidiano a a questo debutto stagionale il 2023 ma per adesso ti dico la verità il programma delle trasferte non è stato ancora definito nel dettaglio però allo stesso tempo sì ti posso confermare che l'attenzione ci sarà devo dire che da quando più o meno è finita la stagione e io la identifico con i mondiali su pista di metà ottobre poi ci sono state le presentazioni dei percorsi del giro e del tour quello della Vuelta arriverà il 10 gennaio ma devo dire che sulla gazzetta dello sport in questo attunno inverno basta andare a vedere la raccolta il ciclismo non è mai mancato sia nell'edizione di carta sia sul web poi so bene che gli appassionati ne vorrebbero sempre di più di ciclismo ma devo dire che la presenza di questo autunno inverno c'è stata ed è stata importante Ciro una notizia che è afferata proprio pochi giorni prima che le squadre partissero per il ritiro proprio sì pochi giorni prima credo è stata un po' il colpo il colpo grosso il colpo ottimo realizzato da rcs sport che si è assicurata la partecipazione del campione del mondo renko e venepol al giro d'italia allora un bel colpo renko potrebbe bissare il successo in una grande corso a tappe dopo la Vuelta dello scorso agosto settembre primavera proponendosi vincitore anche del giro d'italia sembra che il suo per lo meno sulla carta rivale principale sarà garen thomas ma forse per questi palati un po troppo esigenti dovrebbe da pensare ma roglice ci può stare o no cosa fiora cosa fiora ma lo scopriremo tra non troppo perché la jumbo dovrebbe svelare i propri programmi il 22 dicembre ma secondo me l'incognita di roglice è dettata dalle sue condizioni fisiche dal fatto che si è infortunato all'ultimo tour de france non ha potuto finirlo dopo essere stato fondamentale per il compagno vingegaard e quindi non lo so se il giro noi abbiamo pubblicato proprio qualche giorno fa un'intervista esclusiva a roglice in cui lui stesso non era sicuro del fatto di poter essere al cento per cento per il giro visto che ha dovuto essere fermo per un po di tempo però allo stesso tempo non è neanche detto che poi non possa arrivare in corso d'opera il sì di roglice al giro cioè non lo deve necessariamente annunciare adesso poi magari se la stagione nei primi mesi andrà in un certo modo potrebbe anche esserci perché no non lo so in questo momento roglice non mi sbilancierei mi sbilancio invece sul fatto che con even and pull con ro con garen thomas e non solo a me sembra che il giro 2023 stia nascendo sotto ottimi auspici cioè un giro che ha raccolto i favori del pubblico per quanto riguarda il tracciato e vedo che stanno arrivando sì di spessore perché per esempio non lo so un corridore come tibopino il francese magari non sarà più competitivo per la classifica generale però un corridore che ha vinto un lombardia che ha vinto sul turmalè sull'alpe duets è una garanzia di spettacolo in salita ed è solo un esempio senza dimenticare che a proposito della battaglia per la maglia rosa possiamo dire che comunque ci sarà un joao almeida che fatto quarto un anno sesto un anno l'anno scorso si è ritirato per il covid ma anche lì in zona podio con 70 chilometri a cronometro anche lui può essere competitivo a me sembra un giro che sta nascendo ti ribadisco sotto i migliori auspici senza dimenticare che poi italiani del calibro di ganna di caruso di ciccone comunque ci saranno allora saltiamo un attimo sulla stagione appena messa alle spalle ovviamente quando si arriva a fine stagione nel mondo del football si incomincia a parlare del pallone d'oro lo merita messi lo merita cristiano ronaldo però posso anche capire che stiamo parlando di un contesto di squadra quindi si va a cercare l'individualità in uno sport che poi è prettamente collettivo nel ciclismo c'è stata l'assignazione del velo d'or a renko e venepol se però andiamo a vedere i risultati la regolarità e tutto quanto io credo che al di là del secondo posto al tour e scusate se è poco forse io credo che nessuno poteva contestare una tribuzione di questo premio a al fuoriclasse slovena e sai a chi mi riferisco a cosa c'è il dibattito è aperto e ci sta il tuo ragionamento però allo stesso tempo penso che la vittoria di venepol per noi tra l'altro la gazzetta dello sport vota per il velo d'or vola vota il vice direttore pier bergonzi che è stato cronista sul campo delle corse di ciclismo per tantissimo tempo e io avrei scelto e venepol ti dico la verità perché te lo spiego rispetto a pogaccia perché entrambi hanno vinto una classica monumento la lieggi per il belga il lombardia per lo spagnolo remco ha vinto un grande giro è vero mi potresti dire pogaccia era comunque è comunque arrivato secondo al tour con tre vittorie di tappa si potrebbe quasi dire che un secondo posto al tour vale almeno quanto la vittoria della vuelta anche su questo potremmo dibattere a lungo però c'è il titolo di campione del mondo quello secondo me al di là del fatto che remco è arrivato sul podio anche della cronometro mondiale perché è arrivato terzo però secondo me ci sta ed è anche un messaggio noi ne abbiamo parlato sulla gazzetta dello sport negli ultimi tempi un paio di volte è anche un messaggio ai corridori secondo me questo premio del velo d'or questa classifica c'è una classifica che vede remco al primo posto poi van aert pogaccia vingegaard e ganna questi primi cinque allora il vincitore del tour de france vingegaard è arrivato quarto non è arrivato neanche sul podio il velo d'or lo ha vinto un corridore che al tour de france non ha partecipato perché remco e venepul non ha partecipato al tour de france che cosa voglio dire che il tour de france è la corsa più importante questo sì ma non è tutto e questo secondo me deve essere un messaggio per i corridori cioè la stagione non si identifica solamente con il tour fattoria pieve assalti il benessere a portata di mano vacanze da sogno nel cuore delle colline senesi gastronomia fitness maneggio e tanta bici tra le crete e la via francigena www.pieveassalti.it dalla bici alla brace locandailboschetto.com immergiti con Dario Pieri e la sua famiglia nella tranquillità della campagna toscana cara agli etruschi troverai i sapori incomparabili della cucina tipica toscana accompagnata dai migliori vini a contatto con i profumi di un territorio dove le dolci colline che uniscono siena e san gimignano a volterra calano poi verso il mare a contatto con una natura splendida incontaminata locandailboschetto.com un'ospitalità estesa anche agli amici a quattro zampe camere accoglienti dotate di televisore e bagno con doccia locandailboschetto.com è a volterra sulla statale 68 al chilometro 49 50 in località spicchiaiola locandailboschetto Dario Pieri e la sua famiglia ti aspettano fossetti costruzioni sinonimo di qualità ed efficienza al tuo fianco dalla progettazione alla messa in opera ristrutturazioni e nuove costruzioni tempi rapidi di realizzazione e consegna chiedi un preventivo o la disponibilità di nuove costruzioni in vendita www.fossetticostruzioni srl.com messaggio chiarissimo io però sento un pochino ma penso sia un fattore psicologico quando vado a interrogare colleghi a dette lavori sembra un po' uscito ma uscito dai radar poi tutti pronti a scrivere il suo nome sul tappino van der polle cos'è successo secondo te perché c'è è giunta questa sensazione nessuno lo vuole sottovalutare nessuno lo vuole mettere da parte però un pochino uscito dai radar c'è ma sì e no nel senso beh al tour è andato male questo è vero però allo stesso tempo e aveva fatto un bel giro d'italia la maglia rosa la vittoria nella prima tappa poi forse aveva corso in una maniera tatticamente non proprio accorta però magari era un qualcosa che lui stesso aveva studiato e van der polle l'avremmo dovuto voluto vedere al campionato del mondo poi c'è stato quell'episodio che tutti ricordiamo quell'episodio clamoroso quel suo arresto poi rilasciato per quella lite nell'albergo australiano vicenda per la quale tra l'altro pochi giorni fa è stato assolto però io lo vedo sempre come un grande protagonista nel cross ha già vinto e ha messo nel mirino il mondiale di cross eh di Ogheraide a inizio febbraio in Olanda dove ci sarà il grande scontro con Wout van Aert ricordiamoci che il campione uscente del Fiandre che ha rivinto quest'anno quindi io lo vedo sempre tra tra i punti di riferimento assoluti anche per una certa ecletticità che lo rende veramente speciale ma io credo e qui è parere unanime anche con tanti appassionati che sia il ciclismo veramente di oggi spettacolare perché questi grandi protagonisti non rispondono a canoni parecchio particolari cioè eh anche Till una volta si diceva cronome tattico abbastanza tattico forse lo era anche Miguel Indurain no? Adesso invece hanno preso un po' dalla scuola post contador contador compreso vanno col cuore addirittura eh si riempiono a volte il diario di controsensi tu hai citato la vittoria di Van Der Poel al Fiandre è stato estremamente tattico al Fiandre Van Der Poel cosa che al Giro d'Italia non ha guardato a nulla ha pensato solo a dare spettacolo e la gente impazziva a bordo strada perché bisogna dirlo che la gente impazziva applaudiva questo grande campione che dava spettacolo lo stesso Pogaccia che poi ha fatto alcuni errori tattici al Tour de France ma certo non è stato ingeneroso egoista quanto voler dare spettacolo quindi c'è questa forte propensione da questi protagonisti non ci chiamo Van Aert che colleziona imprese e secondi posti però Cavoli è sempre lì senza dubbio questo eh direi che sono tutti d'accordo con quello che stai dicendo è un'epoca molto fortunata gli ultimi due anni almeno ma anche forse dalla la ripresa post primo lockdown no stiamo vedendo un ciclismo fortemente spettacolare ha citato Van Aert ma anche il modo in cui Remco ha vinto sia la Liegi sia il mondiale con attacchi ehm dalla lunga distanza e a me sembra che si stia anche risvegliando davvero un certo interesse e a determinati campioni eh si riesce come tu dicevi giustamente con questo atteggiamento a perdonare anche determinate sconfitte cioè quella di Pogaccia era al Tour di quest'anno sì è stata una sconfitta senza dubbio perché campione uscente due vittorie di fida non ha vinto per la terza volta però se vai a mettere insieme le tre vittorie di tappa la maglia bianca e lo spettacolo che ha dato eh diciamo così lo perdoni e perdoniamo anche Wout Van Aert c'è stato un dibattito molto interessante in Belgio perché Tom Bonen ha fatto questa dichiarazione dicendo ma Van Aert voi parlate tutti di una stagione straordinaria però non ha vinto classiche monumento non ha vinto il mondiale e quindi la stagione non è così straordinaria come pensate tutti non ha torto Tom Bonen è una riflessione interessante però sì allo stesso tempo è stato un corridore che ci ha fatto e ci fa innamorare quindi è bello ed è giusto così credo però che il 2023 sia la stagione che carica di tanti punti interrogativi l'ultimo vincitore del tour cioè Jonas Vinsgard e spiego il motivo questo è il mio punto di vista perché quella contrapunto contrapolpo psicologico che ha accusato post vittoria la può dire lunga su una certa fragilità mentale o quantomeno da doversi testare non più da outsider ma da favorito credo che i giochi cambino e cambino notevolmente cosa ne pensi beh sì sono d'accordo eh lui a differenza di Pogacar mh non lo possiamo ancora considerare a livello di un Pogacar appunto secondo me eh beh l'anno scorso era arrivato secondo al tour e non è un corridore che è venuto dal nulla ehm anche quest'anno era arrivato secondo alla Tirreno Adriatico eh poi dopo il tour comunque nel suo rientro al giro di Croazia comunque è riuscito a vincere due tappe se però mi dici che lui deve confermarsi deve dare un ulteriore messaggio un ulteriore conferma ti dico di sì eh sarà molto sarà molto interessante perché sicuramente non sarà sottovalutato ma io non penso che neanche quest'anno però sia stato sottovalutato al tour è stato più forte ha potuto contare sulla squadra più forte allo stesso tempo rispetto ai corridori che di cui abbiamo parlato prima cioè i Vanderpool i Van Aert i Remco i Pogacar Vingegaard è stato grandissimo al tour e ma poi non ha costellato la sua stagione da vittorie in grandi corse e deve dimostrare di essere capace di farlo però allo stesso tempo eh io penso che lui punterà forte sul difesa del titolo al tour allora io concluderei questo intervento tanto avremo modo poi di tornarci anche in futuro su questi argomenti e parlare magari anche del nostro ciclismo però mi interessa eh diciamo tra i campioni affermati ovviamente è chiamato alla stagione di riscatto Julian Alaphilippe fra i campioni emergenti c'è da sottolineare eh le forze iberiche abbiamo detto se il ciclismo italiano non sta troppo bene attenzione anche quello iberico ma attenzione direi e insomma Massa ha fatto un finale di stagione ottimo davvero piano piano va convincendo e a Lombardia ha fatto una grandissima volta e Lombardia ha tenuto la gamba con con lo sdoverno Pogascia e poi aiuto io non so come un cronista attento come te e prende certe affermazioni quando dicono state attenti che aiuto a delle prestazioni perlomeno così a livello eh prestazionale a livello valori eh migliori di Pogascia ecco questi sono sicuramente aiuto in modo particolare è un è un campione sul quale la stessa è Wemi Reitz poi aiuto il compagno di squadra di Pogascia sta puntando molto per il futuro tu cosa ne pensi ecco una rapida carrellata per concludere partendo da Alaphilippe e poi da questi due giovani emergenti. Allora Filippe deve deve più che altro tornare ai livelli eh del duemilaventi e del duemilaventuno e sì anche il suo team manager l'Efevere l'ha punsecchiato qualche giorno fa dicendo mi deve io lo pago allo stipendio da campione deve tornare a esserlo perché quest'anno ha vinto poco è stato anche sfortunato è vero però deve dimostrare di poter tornare a quei livelli eh sì però per quanto riguarda il ciclismo iberico se eh ci concentriamo sul ciclismo su strada beh sta meglio dell'Italia secondo me in questo momento tu hai citato giustamente Henrik Mas che ha chiuso alla veramente benissimo la stagione punterà di nuovo sul tour però dopo tre secondi posti alla vuelta secondo a Lombardia non sarebbe sorprendente se riuscisse finalmente a vincere qualche cosa di importante Aiuso penso che sia un corridore fortissimo eh è il corridore lo ricordiamo a chi ci guarda chi ci ascolta che ha il contratto più lungo di tutti nel world tour cioè la UA Emirates lo ha messo sotto contratto fino al duemilaventotto quindi questo da solo questo dato fa capire quanto ci tenga e quanto punti su un ragazzo che è arrivato terzo alla vuelta ancora più giovane di quanto riuscì a fare Pogacar tre anni fa e infine non ehm ecco coglierei l'occasione per ricordare anche Carlos Rodriguez sempre spagnolo un altro campione di Spagna eh con il Timineos non so fino a che punto rimarrà a lungo con il Timineos perché lui ha il contratto a fine di quest'anno e si dice che dal duemilaventiquattro potrebbe andare alla Movistar ma al di là di questo eh insomma la Spagna che ha da poco salutato Valverde da qualche anno già aveva salutato Contador prima e poi Purito Rodriguez e però la Spagna tra Massa Iuso e Rodri e Carlos Rodriguez soprattutto nei grandi giri ma non solo può riproporsi davvero ad altissimo livello noi credo che dobbiamo aspettare ancora un po' eh scusami però non possiamo chiudere senza citare Egan Bernardo eh volentieri eh una grande suggestione Egan della stagione che sta per cominciare questo ragazzo colombiano che eh adesso è atteso tra meno di un mese dal suo ventiseiesimo compleanno lui è nato il tredici gennaio come Pantani e eh l'incidente che ha avuto è stato tremendo però da quello che filtra e da quello che si vede lui veramente sta cercando di fare di tutto per tornare quello che aveva vinto il giro e quello che aveva vinto il tour non è facile sicuramente deve recuperare delle posizioni rispetto ai campioni che abbiamo citato prima e però ha al suo fianco una squadra una struttura che lo può supportare in tutto e per tutto e forse la curiosità più grande in un certo senso di tutta la stagione Segan Bernal riuscirà a tornare quello di prima dell'infortunio e non so rispondere nessuno lo sa la sua strada è in salita però è anche vero che lui la salita è il suo terreno è dove si esalta quindi ci sarà da seguirlo bene Ciro eh spero sempre chiotto averti ospite il tempo è sempre tiranno eh davvero e credo di non aver dimenticato nulla solo eh la modalità per ringraziarti per essere stato con noi con gli amici di fuori corsa per farti gli auguri di buone feste e per incontrarci quanto prima speriamo che il tempo voli ancora eh fedeli amicissimi sulle strade del grande ciclismo grazie Ciro per essere stato con noi grazie a voi a tutti gli amici di fuori corsa e davvero spero di rivedervi presto